...150 anni dell'Unità d'Italia. Vogliamo riferire su questo evento molto importante della nostra storia, che ha determinato lo sviluppo e i costumi della vita della nostra nazione. E' approvato. Noi abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue. Articolo 1. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. Ordiniamo che la presente, munita nel sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del governo, mandando a chiunque aspetti di osservarla e di farlo osservare come legge dello Stato. Da Torino, 17 marzo 1861. I tre colori della tua bandiera non sono tre leggi, ma l'Italia intera. I bianco, le api. Il rosso, i due vulcani. Il verde, l'erba, le frasi piani. 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 L'erba, le frasi piani. L'Italia, l'Italia se testa. Nel l'erbo di Cipio se cinta la testa. Ciao, io sono arrivata in Italia, da un paese lontano. Come me, tanti altri bambini vivono in Italia. Grazie Italia che ci accoglie e ci aiuti. Grazie Scuola Italiana che ci insegni tante cose. Viva l'Italia! Grazie a tutti. È proprio la nostra terra. L'unità è l'Italia. L'avete rappresentata bene, con i colori della barchera. Complimenti. A me piace moltissimo l'Italia che avete costruito con tanti bimbi. Immagino che siano bimbi bianchi, rossi e verdi. Bimbi e bimbi e bimbi. Bianchi, rossi e verdi. Sono più tanti piccoli. A testimonianza di questa giornata, ogni bambino riceverà un diploma di partecipazione. Grazie. 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 Grazie.